bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite sono state scoperte un sacco di piccoli dettagli che fanno la differenza nuovi suoni per le armi che verranno aggiunti la possibilità di vedere una nuova location per il fortnight mers il nuovo pack e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è il nostro galactus come sapete con la pace 14.30 nel cielo non si vede più brillare qualcosa di particolare ma comincia a intravedersi la sagoma di galactus e finalmente sappiamo che ogni giorno che passa lui si avvicina queste sono delle immagini come vedete prese da ieri ed è molto più grande di quando è uscita la pace tra l'altro abbiamo anche dei suoni che sono dedicati a galactus e che vi voglio porca vico alla miseria eccoli qua vi voglio far sentire ascoltate un po qua come sentito ovviamente sono dei suoni d'ambiente che molto probabilmente noi riusciremo a sentire se ci mettiamo e puntiamo con il cecchino per dire il nostro galactus non sono ancora presenti ufficialmente in game ma sono nei file di gioco questo vuol dire che galactus avrà finalmente un ruolo in questa storyline e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle grandi novità anche per quanto riguarda il prossimo aggiornamento si è già vociferato sempre nell'ultima patch che questo mese vedremo prima del 31 quindi prima del giorno del fortnight mers un nuovo aggiornamento e questo ce lo conferma perché è stato aggiunto allo staging server la pace l'update 14.40 gli staging server vi ricordo che sono l'ultimo step che è il team di sviluppo di epi games utilizza prima di rendere pubblico un aggiornamento che dovrebbe essere un bel aggiornamento bello grosso perché c'è dentro tutta la roba dedicata appunto all'evento di halloween e quindi ci auguriamo anche a qualcos'altro staremo a vedere ovviamente non appena verrà rilasciato e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla anche della possibilità di un nuovo by home quindi un nuovo addirittura bio ma una porzione di mappa dedicata al fortnight mers ma più realisticamente di una location e alcune voci che stanno girando sono molto molto dedicate alla vecchia grotta in inglese chiamato de grotto vi ricordate dove c'era i tempi brutus con la minigun che adesso è chiuso dove c'è quel teschio direi che è un'ottima ambientazione per poter dedicare una location al fortnight mers e tra l'altro ho degli audio che ci fanno capire che qualcosa sta realmente arrivando ve li voglio far ascoltare suoni metallici acqua che cade passerelle dove ci passa sopra la gente direi che è molto probabile che grotto sia la location che è stato un pochettino spoilerazzata e della quale si sta parlando adesso tra i vari leakers quindi staremo a vedere sicuramente sapremo tutto con il prossimo update e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché dentro appunto il nuovo location molto probabilmente troveremo nuovamente degli scagnozzi e qua si parla che il nome di questi scagnozzi sia lonely henchman scagnozzi solitari dovrebbe suonare qualcosa del genere e anche ovviamente il boss che non sappiamo quale sia ma molti dicono che sia appunto una variante di mida zombie sarà presente avevamo già visto che ci sono già delle stringhe di codice che confermavano il fatto che questi nuovi boss questi nuovi scagnozzi avranno in mano il lancia zucca e quindi il pumpkin launcher e sappiamo che una variante di mida che sta per arrivare aveva 350 di vita e potevamo trovarlo con lo scar leggendario la mitraglia leggendaria o il pump quindi staremo a vedere se tutti questi dettagli una volta messi assieme daranno quello che vi sto dicendo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ancora delle modifiche queste sono freschissime sembrerebbe che con la prossima stagione o i prossimi aggiornamenti addirittura molti suoni delle armi verranno cambiati e sono davvero molto belli perché assomigliano a quelli veri quindi diciamo che realisticamente parlando hanno fatto un gran lavoro voglio farvi ascoltare un pochettino vero Grazie a tutti Grazie a tutti per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e noi ci troviamo alle 8 in live su Twitch Ciao